Pronto, pronto, mi sente? Signora, non... Ok, sono... sono intrappolata. Pronto, mi sente adesso? Pronto? Signora, non riesco a... Sono in una capsula criogenica e tra poco non avrò più ossigeno. Una capsula medica di criogenesi? Sì, è bloccata, non posso uscire, mi deve aiutare. Certo, in che ospedale si trova? Non saprei, mi sono svegliata qui dentro, non mi ricordo niente. È bloccata, non posso uscire. Non può bussare per avvisare qualcuno? Ci ho provato, ho bussato, ho provato, ma non è arrivato nessuno. Ok, mi dia nome e indirizzo. Non riesco, non me li ricordo. Sarà che una falsa segnalazione è reato? No, no, la prego, deve credermi, mi aiuti, la sopplico. Dice la verità? Sì, forse può provare a rintracciare la mia chiamata. D'accordo. Cerchi di ricordare un luogo, qualsiasi cosa possa aiutarci. Non lo so. L'ultima cosa chi ricorda? Un ospedale, mi pare. Il pronto soccorso. Non so, è molto confuso. Ho paura. Si calmi, signora. Non si preoccupi, la tireremo fuori. Il computer. Il computer dovrebbe saperlo, il computer saprà dove... Milo, localizzazione dell'unità. Localizzazione dell'unità impossibile da determinare. Scusi, mi avete trovata? Ci vuole tempo, non riusciamo a localizzare il suo trasmettitore. Come non ci riuscite? Proviamo a restringere il campo. Forse sono sottoterra, forse sono sottoterra, mi hanno... Cerchi di mantenere la calma. Mi hanno sepolta viva, mi hanno sepolta viva. Si calmi, signora. La smetta di dirmi di calmarmi! Ascolti, ho bisogno che mi dica quello che può sulla capsula. Il produttore, il numero di serie, tutto quello che riesce a trovare. Controlli. È ancora in linea? Sì, ci sono ancora. Prodotto da Krios Alid. Il numero di serie è 74 85 94 53 75 267. Allora, riuscite a localizzarmi? Abbiamo ancora qualche problema. Sono sottoterra, sono sottoterra, sono sottoterra. Non mi troverete mai. Ascolti, signora, lo troveremo. Devo trasferire la chiamata al mio superiore. No, 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 non mi può lasciare, non mi può lasciare. Non la lascio, la linea resta aperta. No, 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 per favore, non vada via. Ci vorrà solo un secondo. Non sparisco, la prego. Stiamo trasferendo la chiamata. Sarebbe stato meglio accettare quel sedativo. Gradirebbe un sedativo? No. Errore di connessione.